una settimana d'addio per i mercati cripto ma soprattutto una settimana d'addio per bitcoin che non è la stessa cosa infatti per tante altre criptovalute questa settimana il rialzo è stato notevole di bitcoin non tanto in termini di volatilità vedremo appunto in questo video che sostanzialmente la volatilità di questi mesi, di queste settimane è anche molto bassa rispetto a quello che si possa pensare ma in termini di price action cioè dove siamo arrivati, dov'è il livello chiave che in questo momento bitcoin sta testando nel video di mercoledì, un super video che racchiudeva un po' quella che era la chiave di lettura di questa situazione vi ho spiegato che la velocità era anche estremamente rilevante che la rottura del livello dei massimi di bitcoin, massimi di periodo, quelli di aprile fatta in maniera troppo veloce non era effettivamente da prendere in maniera estremamente positiva ed è ancora in questo modo ciao bene e ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video ragazzi intanto lascio la moneta bitcoin perché come è girata bene, oggi è uscita figa questa qui allora siccome statisticamente è diventata con correlazione inversa questa moneta dovrebbe andare male, mi piaceva male tutti i giorni prima, va bene allora ragazzi sono molto contento di farvi questo video perché questo è un video solo di analisi quindi preparatevi comodi comodi sulla sedia e siamo a venerdì, è il weekend quindi vi sparate questo video di analisi tutti quelli che sono i grafici di lungo periodo di bitcoin il mensile settimanale, guardiamo anche il future di bitcoin cioè quello, non il future degli exchange ma quello ufficiale del CME dov'è? è un po' più pulito, che cosa sta facendo? la ciclica che cosa ci dice? andiamo a guardare un po' di cosettino lo faccio alla bounce di Omar Simpson va bene ragazzi allora prima di andare avanti vi ricordo però la promo di Coincall perché è andata a ruba sono veramente contento insomma è un nuovo exchange non sappiamo neanche come funzionerà viene lanciato fra 5 giorni ma regalano dei soldi quindi è un airdrop in questo caso se vi scrivete dal link che vi lascio in descrizione c'è il bonus esclusivo per la nostra community lo 0.1 ETH in opzioni quindi non è in valore effettivo ragazzi e poi addirittura anche la seconda ricompensa se fate trading per 6 giorni anche con 5 dollari insomma una cosa veloce un ETH in opzione call che più o meno attualmente vale un centinaio di dollari è una cosa molto semplice ragazzi non c'è il KYC vi regalano anche una promo di due ETH free se riuscite a rientrare però nella ranking dei 100 in questo caso condividendo ovviamente il loro link facendo i punti che vi dicono sostanzialmente la mia idea su questo exchange è questa ragazzi prima ci prendiamo tutti gli airdrop che ci danno per testare la loro piattaforma dopodiché andiamo a vedere che cosa combinano se è valida o non è invalida e tiriamo su le somme e di suo mi piaceva solo la questione che per la prima volta vedevo un exchange che non aveva la custody dei nostri fondi ma lo dà in caso di A3 che sono già semi regolamentati quindi sono quelli che in pratica custodiscono le cripto di tanti altri insomma l'idea è carina è un exchange full trading per quindi per trader ragazzi perché lì si fa soltanto future e opzioni soprattutto che sono per trader ma insomma sostanzialmente iscrivetevi e senza che i KYC dai LinkedIn ref vi danno questi bonus se poi fate queste cose sono un solo trade anche con due dollari una cosa così ragazzi ci prendiamo i bonus e poi se ne parla e poi vediamo come funziona va bene link in descrizione detto questo andiamo alla questione Bitcoin e soprattutto inizio da quello che è il grafico del future CME di Bitcoin interessantissimo perché questo grafico ragazzi è un grafico più pulito ha i gap perché è chiuso sabato e domenica e si esprime in termini di volatilità e di cicli leggermente in maniera diversa rispetto al grafico classico io lo guardo ma non lo tengo in considerazione come cosa principale però lo guardo c'è da farvi vedere innanzitutto in maniera estremamente evidente un gap che è presente ancora in questa zona e che non è stato chiuso cioè nella zona dei 35.000 dollari punto che potrebbe essere essenzialmente un punto anche di arrivo di Bitcoin stesso per questa fase e sarebbe anche un buon punto di arrivo quindi non insomma sarebbe strano insomma il raggiungimento di questo livello soprattutto perché è un breakout dei massimi di aprile è ovvio ragazzi che non lo fa certamente con la candelina così cioè se fa un breakout del genere aspettatevi un più 15-20% immediato nell'arco della settimana che ovviamente raggiungerebbe il gap del CME in maniera diretta quindi dal CME da questo grafico noi ne desumiamo che una possibile livello di target se Bitcoin dovesse in effetti breccare questo massimo di aprile intorno ai 31.000 dollari potrebbe essere i 35.000 è un livello non soltanto dovuto al gap che vi ho fatto vedere qui ma anche un livello tecnico dovuto alla pull up di una fase di strutturale di Bitcoin cioè questo minimo quello che era avvenuto in pratica dopo i massimi storici quindi il primo crash che poi non ha dato esito a un rimbalzo consistente allora questa è una fase tra le altre cose molto importante perché? perché un mancato superamento di questi livelli di price di 31 sancisce anche un pericoloso doppio massimo e a quel punto un eventuale breakout di questo livello di minimo indicherebbe l'inversione ribassista di trend di Bitcoin quindi strapericoloso in una fase del genere anche perché sarebbe a indicare che la possibile continuazione della trend ribassista principale quello che abbiamo visto nel 2022 potrebbe addirittura riprendere quindi capite bene come i dettagli tecnici sono fondamentali in questa storia ragazzi quindi quando andiamo ad analizzare i grafici andiamo ad analizzare queste cose dovete anche ragionare come anche dall'oggi al domani cambiano delle cose senza che ce ne rendiamo conto è perciò che gli analisti devono ragionare imparare a ragionare in termini di probabilità allora da questo grafico abbiamo dessunto la questione dell'eventuale target di breve tra virgolette insomma di questa fase se Bitcoin supera i 31 mila dollari passiamo invece all'analisi dei prezzi sul grafico mensile di Bitcoin un grafico che adoro e che è un grafico che consiglio anche agli holder dei mercati quelli veri ragazzi non l'holder che dicono che fanno hold e poi dopo un mese hanno paura delle oscillazioni dei prezzi ragazzi gli holder devono subire tutta la volatilità dei mercati questo significa che l'holder guadagna solo quando il mercato è in bullcan tutto il resto del tempo cioè trending range mercato ribassista l'holder prende solo diciamo bastoni nei denti però quella volta che guadagna nel bull market guadagna tantissimo quindi l'investimento holding in pratica ragazzi ragiona così percentuale di gain molto alta questa parte del tempo in cui si resta in profitto diciamo dipende dal gain iniziale ma il tempo in cui guadagnate è veramente pochissimo quindi dovete abituarvi a questo quindi grandi momenti di euforia ma poi anni di tragedia quindi abituatevi a queste cose perché chi gestisce diciamo le posizioni del SG in holder è così quindi questo è un grafico che però consiglio proprio agli holder perché il mensile e il settimanale sono i due grafici sicuramente principali per questo tipo di operatività tant'è vero che se vi ricordate i breakout del livello delle due medie la 12 mesi e la 6 mesi cioè il livello delle medie annuali e semestrali erano fondamentali che cosa ha fatto bitcoin in questa fase ragazzi è andato a fare un pull back nell'aria tra le due medie l'aria delle due medie come spiego nel mio corso basic cioè una lezione dedicata come si usano queste medie mobili e le medie mobili l'aria all'interno delle due medie mobili è un'aria di respiro cioè un'aria che in questo caso funge da livello di resistenza al contrario quando invece i mercati sono ribassisti i ribassisti funge da livello di resistenza quindi in questo caso da supporto ragazzi scusate mi sono diciamo scombussolato allora detto questo che succede ragazzi il mercato ha fatto anche un'altra figura di price action che è molto interessante la candela del mese precedente quella di maggio è stata breccata nella sua struttura minimo al ribasso perché il mercato stava chiudendo un'altra red un'altra candela rossa ragazzi ma il break non ha avuto esito tant'è vero che il recupero immediato che l'ha portato al break della parte alta invece di quest'altro lato sancisce che questo è stato un fake signal perché siamo al 23 di giugno quindi il 23 di giugno ormai questa candela chiuderà fra sette giorni circa quindi in sostanza noi siamo alla fine di questa candela quindi la breakout ribassista che era avvenuto è stato il fake di questo mese lo stesso identico di quello che era avvenuto già a marzo cioè marzo-aprile hanno fatto il fake uguale ragazzi anche qui la candela aveva fatto il breakout del mese quindi sembrava continuasse la sua struttura ribassista feccone gigantesco e poi ha sviluppato questa roba qui la stessa identica cosa quindi a livello di price action e segnale tecnico di bitcoin questo è un super segnale rialzista non è soltanto quindi una struttura che ci indica una manipolazione dei prezzi verso l'alto ma ci indica che la manipolazione ribassista dei prezzi avvenuta nei giorni scorsi è stato un fake ce lo indica in maniera evidente proprio per il fatto che il minimo di questa candela del mese precedente è stato breccato e poi riassorbito segnando in pratica che qui gli operatori istituzionali sono andati a prendersi liquidità sono andati a prendersi i bitcoin ragazzi l'hanno spinto giù per comprare su un minimo e quindi hanno accumulato in questa zona quindi è molto bello ragionare anche di price action in questo modo in questo frangente se non che vi faccio vedere un paio di grafici di indicatori allora l'indicatore della struttura del ciclo dell'halving di bitcoin che vedete giù è un RSI con una SMA quindi semplicemente smussato per non farlo apparire con il solito la solita struttura dell'RSI che è zoom da elettrocardiogramma la struttura dell'halving le vedete ben presenti 1 e 2 qui è iniziata l'altra struttura dell'halving esistono dei livelli che possiamo andare a comprendere dei livelli di ipercomprato che coincidono con dei massimi relativi importanti qui ancora manca un piccolo spuntone tant'è vero che in effetti questa fase rialzista del nuovo ciclo dell'halving di bitcoin è stata spenta rispetto alle precedenti in termini di rialzo è più lenta più accurata più precisa più matura oserei dire in questo modo ed è secondo me una cosa molto bella ma ci deve anche far riflettere su alcune cose è probabile che quello che abbiamo visto negli anni scorsi non si vada a replicare nel modo identico cioè se abbiamo ridotto quella che è la struttura di volatilità del mercato e abbiamo dei tempi un po' più rilassati più lunghi può essere anche significativo del fatto che il mercato farà dei trend più puliti rispetto ai precedenti quindi migliori da un certo punto di vista anche e soprattutto per chi magari di voi è un trader e che ha le conoscenze anche per tradare questi trend in effetti cosa significa che magari questa fase di bassista così pronunciata come è avvenuto nel 2019 che poi ha portato al minimo della questione pandemica magari tralasciando la candela del minimo ragazzi no tralasciandola qui perché probabilmente insomma questo è dovuto alla questione pandemica però se escludiamo la struttura di oscillazione verso il basso ci rendiamo conto che comunque da qui a questi livelli c'era in ogni caso arrivato già qui vedete in questi mesi quindi è stata una bella struttura ribassista è possibile che la fase impulsiva sia ridotta ma anche la fase di contraria quindi quella successiva si sia ridotta e che quindi il mercato magari faccia degli andamenti più naturali in questo modo senza andare magari a fare su così e poi a lateralizzare diciamo per mesi mesi a venire vediamo questa cosa dovremmo ragionare perché è una cosa nuova è possibile che il mercato la vada a strutturare che il bitcoin la vada a strutturare in ogni caso l'RSA ci porta a una conclusione questa fase non è un eccesso non è una fase di eccesso in termini di RSA ma non è RSA ma non è una fase di eccesso neanche in termini di quest'altro indicatore che è l'indicatore dell'everage true range normalizzato quindi che si esprime in termini di percentuali ragazzi ed è indicativo anche della volatilità del mercato guardate come è basso giusto per farvi capire i picchi di volatilità sono questi qui che poi in questo caso sono calcolati anche male da questo indicatore l'ho preso da TradingView non mi piace tanto io l'ho rifatto a livello personale facendo altre cose ma per questo video va bene ragazzi guardate la struttura delle candele mensili di Bitcoin come è bassa in questa fase rispetto alle fasi alte cioè ha dei picchi ha delle fasi esplosive però è basso la volatilità di questi mesi anche perché magari facendo riferimento al mese per esempio di Mars avevamo oscillazioni intorno al 30% adesso siamo al 20% e ci sembra chissà cosa il mese scorso è stato 15% il mese precedente addirittura a 14% cioè siamo in una perioda di bassa volatilità molto molto simile a questa fase la fase di fine 2016 cioè metà 2016 più che fine e ottobre settembre ok questa zona qui siamo molto simili alla volatilità espressa dal mercato in questa struttura qui ragazzi cioè in questa fase in questo bull run che poi è stato quello 2016-2017 che è stato appunto quello eccessivo assolutamente ma anche senza oscillazioni come quello invece del 2019 che è stato estremamente complicato quindi eccessi in questo momento di price e di volatilità non ce n'è eccessi in termini di RSA non ce n'è abbiamo una bull abbiamo una stop hunting che è stato palesemente creato per prendere della liquidità manipolando dei prezzi e la price action ce lo ha dimostrato sostanzialmente questo potrebbe essere tranquillamente un rialzo che nei prossimi nelle prossime settimane potrebbe continuare a essere sano se non che da qui in poi dobbiamo ragionare anche in termini di analisi ciclica perché c'è il problema dell'analisi ciclica l'analisi ciclica la vediamo sul grafico del weekly e sul grafico del weekly ci indica vedete intanto la precisione di questa cosa che abbiamo indicato qui ragazzi fantastica però l'aria di minimo dovuto alla chiusura del ciclo semestrale ancora non siamo nelle condizioni di dire che il ciclo semestrale è chiuso dovremmo aspettare almeno un po' di settimane però diciamo la probabilità è abbastanza alta diciamo così da qui in poi se si sviluppa un'altra struttura io mi aspettavo intanto che questo ciclo fosse più lungo quindi che qui fossimo in una struttura di raccordo dovremmo poi comprendere questa fase qui come una qual è il suo vero significato cioè se da qui è iniziato in effetti un nuovo ciclo semestrale o meno perché in realtà ci sono diverse ipotesi cicliche che poi potrebbero andare a configurarsi soprattutto se il massimo arriva di bitcoin tra la prossima settimana e la successiva cioè se in questa campana bitcoin fa una struttura di questo tipo a quel punto stiamo attenti perché potrebbe andare a innescarsi un giochino particolare di cui poi parleremo comunque nei prossimi video ragazzi iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto perché c'è da divertirsi proprio tantissimo in questo periodo soprattutto nel seguire quello che sta facendo il mercato bitcoin e anche un progetto nuovo che mi interessa molto fare che riguarda proprio le altcoin ve lo dico in maniera sfoderata perché io sono positivo sulle altcoin nei prossimi mesi non in questo mese qui in questi mesi sono ancora in attezza ragazzi ma tra un po' sarò positivo anche sulle altcoin e poi io capire delle cosette quindi poi magari struttureremo questo progetto anche qui insieme allora nella fase rialzista di bitcoin il breakout adesso di questi livelli qui di questo livello di massimo sancisce la continuazione intanto di questo trend ma anche il fatto che da qui è iniziata una nuova struttura ciclica che o è una forma di nuovo semestrale e allora non mi era bloccato eccolo qui o è una forma di di nuovo semestrale corto oppure è un semestrale completamente nuovo ed è lungo come diciamo quello precedente quindi circa 200 giorni ma di questo poi ne parleremo perché potrebbe essere una cosetta così ragazzi un semestrale molto corto fatto insomma più piccolo e poi lasciare spazio a una struttura finale che allunga un po' i tempi perché perché ci serve una struttura che porti fino a maggio fino a febbraio gennaio 2024 che è quella la data diciamo clou del ciclo annuale quindi lì dovremmo stare attenti allora strutturandolo io ve lo lascio comunque in forma normale come l'abbiamo sempre delineato poi in caso lo andremo ad aggiustare allora questa struttura qui ragazzi porterebbe in pratica ad un breakout con target ancora una volta 35 mila dollari circa questi 35 mila dollari io li attenzionerò in maniera estremamente estremamente forte perché il pericolo che da lì si faccia il massimo dell'anno 2023 c'è cioè noi possiamo in effetti stare andando a costruire i massimi dell'anno proprio in questi mesi io starò sempre tenendo follower ragazzi quindi a meno di inversioni di trend comunque continuo a cavalcare questi long il più possibile però il rischio c'è cioè a livello ciclico ci dice che stiamo entrando nell'emisfero debole del ciclo annuale debole non vuol dire che crolla ragazzi non è in termini di prezzo è in termini di tempo quindi dovete un po' leggermi tra le righe ascoltatemi un attimo allora debole in questo caso significa che la fase temporale volge i giochi sono fatti e questo significa che lo spazio di crescita diventa magari più ridotto e che magari se bitcoin da novembre adesso ha fatto il 100% più del 100% eccetera magari la crescita possibile nel secondo emisfero 195% la crescita possibile è più piccola quindi può fare qualcosa ma magari andrà a strutturare dal minimo precedente magari un più 30 o più 40 che poi consiste essenzialmente vedete proprio nei 35.000 quindi questo è il concetto di fase debole debole non vuol dire scende vuol dire la forza è più debole rispetto alla prima fase che era questa qui va bene quindi potrebbe andare a strutturare una fase di questo tipo e questo bisogna metterlo in conto occhi bene aperti breakout 31.000 se lo fa nei giorni scorsi c'è l'ipotesi dell'inverse ciclo inverso non parliamo mai magari faccio solo questo video sull'inverse un video ogni due anni e ne parliamo perché l'ho già spiegata in maniera estremamente precisa in academy siamo già pronti lì proprio su quella view ed è una view che secondo me può essere interessante che potrebbe anche farci uscire sui target giusti e quindi anche in maniera temporale sui massimi prima di una fase di chiusura di debolezza che alla quale io non vorrei assistere va bene ragazzi al di là di quelle che sono le notizie estremamente interessanti eccetera però vi ripeto io sono trend follower quindi attenziono queste fasi come vi sto dicendo se dobbessimo raggiungere quei target però dall'inpoi poi faccio seguo il trend quindi faccio le versioni di trading regolandomi come pusta sul trend del mercato ci siamo detti tutti vi lascio il link in descrizione di coin call per la promo con il free 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 airdrop buon weekend a tutti noi ci vediamo nel prossimo video e vediamo che succede in questi giorni ciao ciao